no l'ho perso ho zoomato troppo eh l'ho perso a zoomare troppo eccolo 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 di corsa riprendi il tuo moroso spaccaballi riprendilo riprendilo è uno spaccaballi oh è uno spaccaballi Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 non bisogna metterle le canne e provarlo ma io perché non ho preso? io basta tanto non bisogna mai farlo dietro una volta comincia a sbargare un po' il mio è fisso 2-1 mentre il mio è fisso 2-1 ma il mio è fisso 2-1 ma il mio è fisso 2-1 ma il mio è fisso ci sono necessariamente Oh! Oh! Tronco! Oh! Che cazzo d'oro! Che cazzo d'oro! Sai che devo sparare anche io prima che ho blocchiato? Almeno qua li vedi? Oh! Oh! La natra è della via eh! È da via la natra eh! Si era po' leite o sei? Tre po' leite! Hop! Eh! Un po' le quattro! Un po' più... Hop! Ho! 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 Grazie a tutti.